Allora, torniamo all'unità con la vignetta di Staino, allora dice Staino, vediamo, possiamo vederla, allora facciamo così, mia bella società civile, voi ci fate i nomi di chi volete alla RAI, il PD li vota, ok? Ma siccome i nomi sono tantissimi, Bersani dice, però, sciorbole, non prendeteci gusto, eh? Allora, ci hanno preso gusto a far nomi? Caterpillar, buongiorno! Buongiorno! Una valanga, una slavina di nomi, la società civile non vedeva l'ora! Tutti vogliono fare i nomi, direttore, tutti! Bersani ci ha preso questa volta, eh? Tutti, tutti, tutti! Entusiasti! Guardi, ne abbiamo veramente un'ondata per citare le nostre parole, da Santoro a Freccero, e vabbè, quelli si immaginavano, da Gabanelli, da Michele Mirabella, Augas, Augas ha preso tantissimi voti, c'è Mirabella, Mirabella anche lui, Raffaella Carrà, Enrico Vaime, ecco, la gente è rimasta più sui nomi dei televisivi, o comunque sui nomi di quelli che noi abbiamo chiamato i senatori della RAI, quelli che rappresentano l'azienda, l'hanno rappresentata per tanti anni, e sono rimasti nel cuore e nelle menti dei telespettatori come persone di cui ci si può fidare. Allora, quando si parla di una cosa come la RAI, a cui tante persone tengono, tante persone vogliono bene la nostra azienda, e allora vogliono che la nostra azienda sia curata e coccolata da persone di cui si fidano. Ecco, per cui per esempio il ticket Santoro a Augas, oppure anche quello Gabanelli-Sciarelli. Gabanelli-Sciarelli? Gabanelli-Sciarelli? Non ci è piaciuta? Non male, però sarebbe un disastro Gabanelli-Sciarelli, perché dovremmo chiudere la terza rete dopo le difficoltà della seconda, perché siccome se non guardo male, posso sbagliare, ma gli ascolti della Gabanelli e quelli della Sciarelli sono fra i più alti della rete, se tutti e due andassero al Consiglio di Amministrazione, poi la televisione chi la fa? Quindi io, che voglio bene a Federica e anche a Milena, mi auguro che non vadano al Consiglio di Amministrazione. Beh, comunque è stato bello vedere come la gente ha questo desiderio. Poi sarebbe in pericolo anche i Rai News, perché ci sono anche delle candidature per lei, ovviamente. Il direttore la vogliono. Ebbè, anche Emileo, Arbore. Anche Benedetta Tobaggi ho sentito, no? Ho sentito Benedetta Tobaggi anche, no? No. Ho sbagliato? No, no. Grazie a Dio no. C'è Renzo Arbore, sempre per parlare di senatori. Insomma, c'è il desiderio di vedere su quelle poltrone delle persone affidabili. Ma che ne dite voi del fatto? Scusate, perché io ieri ho visto una notizia che mi ha molto divertito, se posso, ogni tanto con voi, come dire, sciogliermi un po'. Se non lo fa con noi, direttore. Perché alcuni esponenti stimabilissimi, per esempio io li cito, Enzo Carra, che non stanno nel PD, e dicono, vabbè, ma le associazioni, solo quelle che ha detto Bersani, ci sono tutte le associazioni cattoliche. Ma scusa, ma perché Carra non propone che l'Udc faccia lo stesso? E cioè che si prenda un altro delle associazioni cattoliche? Io sono molto d'accordo, perché, come dire, questo fare, questo, diciamo, applaudire la società civile, con la scelta di Bersani, mi pare bizzarro. Oppure potrebbe, ad esempio, farlo anche il PDL. Ma vi immaginate? Non lo so, per esempio, ma vi immaginate? Feltri, consigliere d'amministrazione della RAI, sarebbe... E' stato fatto anche... Beh, uno degli ascoltatori l'ha proposta, insieme a Vasco Errani. Vittorio Feltri, Vasco Errani. No, ma scusate, ma Vittorio Feltri è uno che sicuramente ne capisce, non sarebbe male, per dire... No, no, insomma, la cosa bella, in fondo, di questa idea di Bersani, di questa... Che non è una provocazione, è un'idea vera, è aver aperto il dibattito sulla RAI. Cioè, aver aperto alla società civile, finalmente, il dibattito su che cosa debba essere questa azienda e su chi la debba governare. Perché questo poi è il punto. Finché lasciamo che le nomine siano fatte dai partiti nelle loro stanze... Tipo Agicom. Eh, tipo Agicom o privacy, insomma, e che rimangano dentro quel recinto. E' difficile che poi la gente sia a passioni. No, il problema è che poi sono gli stessi che due giorni prima avevano fatto le nomine in un modo e poi improvvisamente... Eh certo. Escono con questa simpatica. Bella. 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 Bella, a me piace. Bella. A me piace, perché comunque riapre il gioco. Ardemagni, c'è speranza per tutti. L'hanno fatta talmente grossa che hanno detto almeno... Almeno sulla RAI. Almeno sulla RAI cerchiamo di non fare la stessa cosa. Insomma, ci sono tanti, tanti nomi e continuano a farli gli ascoltatori sulla nostra pagina di Facebook. Caterpillar-Ram, tutto attaccato e vediamo. Però, direttore, la notizia vera di oggi è l'incredibile potenza di The Predictor. Perché noi ieri, a quest'ora, le abbiamo detto esattamente come sarebbe finita la partita dell'Italia. Vero, vero, purtroppo. Questo va adesso. Purtroppo. Tutto registrato. Eh, purtroppo è nata tutto registrato. Compreso il gol di Pirlo, eh. Compreso il gol di Pirlo, direttore. Sì, sì, siamo stati... E le circostanze. Io vi faccio vedere il Pirlo sulla Gaza, rosa, la rosa, pari e guai. E' senza maglietta ed è un po'... Eh, sì, sì. La sua fotografia, fra l'altro, non c'è solo qua, c'è anche in altri giornali. Corriere. C'è sulla stampa, sul Corriere. Sì, sul Corriere ci fosse la stessa foto ancora più mesta perché è completamente solo al centro del campo. Infatti mi ha colpito che la Repubblica, in segno di lutto, mette la foto del gol della Croazia, non quello dell'Italia. Sì, sì. Proprio cornuti e mazziati. Sì, perché quello poi è l'unico errore che abbiamo fatto in difesa, diceva Rivera, l'ha fatto che il Lini è andato... È un errore madornale ma è un errore che per sicurezza si fa perché vedi il cross, pensi di poter andare sulla palla, lasci l'uomo solo e vieni selvaggiamente punito. E poi nessuno è andato a scalato di uno per andare a coprire il tentativo di anticipo, non c'era il tempo. Non c'era il tempo. A questo punto c'è solo una parola, direttore, da temere ed è biscotto. Sì, certo. Il biscotto è diventata la parola d'ordine. Ma direte, io sono scioccata perché io nella mia innocenza ignoravo che tra le tante nefandezze ci fosse stato anche un biscotto. 8 anni fa, non sapevo manco cosa fosse. Non potevo immaginare questo livello di perversione. Purtroppo è così, il regolamento in questi casi è in fingardo perché ci mette, dà la possibilità alle due squadre Croazia e Spagna di giocare senza incentivo alla vittoria ma con un incentivo forte a un pareggio con tanti gol. Gli economisti inoridirebbero a un regolamento che permette questo. Allora, De Magni, scusi, gli economisti inorridirebbero anche di fronte alle parole che poche settimane fa pronunciava il portierone dell'Italia a cui vogliamo tutti bene, Gigi Buffon, diceva due feriti, è meglio che un morto. Esatto, e allora che faranno Spagna e Croazia? Certo, due feriti. Sì, qui altro che due feriti, qui due qualificati è meglio. Buffon è un altro che dovrebbe stare più zitto in generale. Più attento, perché è dura adesso dire questi zozzoni possono fare il biscotto. L'abbiamo detto noi. Non noi, l'ha detto lui, perché già c'è abbastanza guai. Che è solo il capitano della nazionale. È capitano, vedi un po' te. Adesso chiamiamo non so chi. Chi di biscotto ferisce, chi di biscotto ferisce, eh ragazzi. È certo, comunque ricordiamo no al massacro dei cani in Ucraina e no a Timoyshenko in carcere. Noi vogliamo soprattutto, noi vogliamo democrazia in Ucraina e Europa. Ma avete visto che... Gli ascoltatori dicono che non ne parliamo mai. No, ragazzi, noi abbiamo ormai una possibilità, un'influenza straordinaria. Ora non vi dico, ma insomma... Tra i news. Allora, fra l'altro ieri eravamo molto preoccupati per Tiago Silva, no? È certo. Con Ardemagni e vedo che Berlusconi ha fatto il sacrificio. Spende e se lo tiene. C'è anche sull'agrazione. È un segnale. Certo che c'è da dire che come presidente della squadra di calcio sa proprio farsi amare. È certo. Tira fuori i soldi. Che cos'è Ardemagni? È un investimento o un... No, è... Tira le fuori i soldi a fondo perso. Non è a fondo perso. È un investimento. Vediamolo come un investimento. Da un punto di vista economico ha un senso. Senta Ardemagni, ma De Previctor può essere interrogato... A proposito, no, prima vi faccio vedere questa copertina dell'Espresso che rifà la storia. Bella. Germania e Italia 4 a 3. Bellissima. È bella. Perché dice hanno fatto le riforme, noi no, sono più ricchi e più di noi hanno approfittato dell'euro. Ma ora anche i tedeschi hanno paura perché la grande partita dell'Europa rischia di saltare e soprattutto per l'intransigenza di Angela Merkel. Quel 4 a 3, ieri avevamo Rivera qui in trasmissione subito dopo la partita. Quel 4 a 3, per noi quello, è indimenticabile. Che anno, Solipello? Se lo ricorda? 1972? 70. 70. 70, non ero ancora nato. Non ero ancora nato. Beh, però lei studia. Eravamo ancora in mente dei. Lei studia, io lo so. Lei studia, io lo so. È vero, è vero. Sentite, poi c'è un Altan che parla della Chiesa. Qual è? Qua è una grana dietro l'altra, dice uno dei due. Mi sa che dobbiamo farci benedire. Questa non è male. Non è male proprio. De Predictor dovrebbe darci una predizione fondamentale sulla Grecia, perché voi sapete dal Sole 24 Ore, l'avete visto, che praticamente grazie al fatto che un sondaggio dava in testa il partito di Nuova Democrazia, uno dei due che ha truccato i conti, l'altro erano il Partito Socialista, allora la Borsa di Atene ha avuto un rimbalzo straordinario, perché con la Democrazia che vince si rimane avvicinati all'euro. L'altra possibilità è che però vinca questo signore, questo giovanotto della sinistra radicale, che ieri ha fatto un mitico in quanta gente. De Predictor dovrebbe essere interrogato. Beh, guardi, qui De Predictor su questo non si ci mette, però il nostro comune amico Dimitri degli Olanos, degli Olanes, ci sottolinea che Tsipras non è l'antieuropeista che tutti credono. Assolutamente sì, ha ragione degli Olanes. Io, visto che dei fatti greci ne saprà sicuramente più lui di noi, noi possiamo anche attendere l'esito del voto con maggiore tranquillità, con rinnovata fiducia. Posso dirle una cosa, siccome qui ormai c'è un'esplosione di idee geniali, c'è Francesco Forte che è persona seria, che si immagina una lira che esce dall'euro però in modo concordato, con una svalutazione concordata, tutto che funziona perfetto. Siccome io ne voglio lanciare una provocatoria, per salvare crescita e rigore ci vuole un governo molto di sinistra nei paesi mediterranei. Lasciamo i paesi ricchi, sani, organizzati, governi di destra e invece mettiamo governi molto di sinistra in tutta l'area mediterranea. Perché? Perché l'unico modo, io non so cosa pensa Ardemagni che è un magnifico economista liberista, ma io penso che l'unico modo per rientrare dai debiti e dai deficit significa far pagare le tasse a chi non le paga, mettere patrimoniali sui grandi patrimoni e terza cosa rompere i modelli di sviluppo che sono basati sul finanziamento di realtà più o meno malavitose. Per Grecia e Spagna sono sicuramente questi tre i problemi, per Grecia e Italia sono sicuramente questi tre i problemi, per la Spagna non c'è la delinquenza organizzata, ma ci sono le autonomie il fatto che queste autonomie hanno delle piccole caste, diciamo. Drenano molti soldi. È una provocazione naturalmente. Però ci sta, sarebbe bellissimo. Ardemagni, anche lei. Allora, qui bisogna distinguere il problema, dove andiamo a pescare la classe dirigente e che politiche faranno. Quindi io sono anche dell'idea che potrebbe esserci pescare a sinistra, forse è più affidabile, però per portare avanti politiche di destra. Questa potrebbe essere... Cosa che è un classico questo, no? Che di solito si fa. Le parole ardemagni, questo è un classico. Ma io ad esempio sarei dell'idea comunque che va bene tassare... Cioè, prima bisogna ridurre le spese. No, perché noi spendiamo veramente... Ha visto anche stanotte la regione Sardegna, ha tenuto l'articolo di Rizzo, ce lo racconta ancora, ha tenuto gli emolumenti dei consiglieri regionali al top, cioè la regione più cara di tutti. Ma perché? È lì che bisogna fare. Poi se i soldi li prendi dai patrimoni alti o dalla... È meglio, certo. Io ho un dubbio sul prima e il poi, perché sa qual è la questione? Nella situazione in cui siamo, diciamo, andare a licenziare i 20 mila, quanti sono dipendenti, non so, moltissimi sono dirigenti della regione Sicilia, ha un costo sociale quasi ingestibile. Altissimo. Quindi è vero che lei ha ragione dal punto di vista... Sicuramente prima bisognerebbe fare la riduzione della spesa pubblica. Ma più che sull'orlo della recessione, noi andiamo a tagliare un mare di posti di lavoro clientelari che qualcuno ha fatto a Napoli. Ma questo mi esplode il mondo. Non so se mi sono spiegato. Se facciamo la patrimoniale, ci tranquillizziamo, vediamo che ci sono soldi in casa e torneremo a spenderli a UF. Lei ha ragione. Ricordiamoci che ci sono ancora... Voglio dire, è complicato il prima e il poi. Io facevo una provocazione perché francamente non lo so cosa si deve fare prima e cosa si deve fare dopo. Lei ha ragione. Quel modello di sviluppo per il Saud è una delle ragioni della crisi d'Italia. Se la Lega invece di declamarlo l'avesse impostato in termini, forse saremmo più avanti da questo punto di vista e dal 1970 che andiamo avanti con questo sistema abbiamo dato soldi a borghessie parassitarie, clientelari e spesso con luce con la mafia. Ricordiamoci anche, direttore, che abbiamo anche sul gobbone i 400.000 esodati che ancora non abbiamo capito chi li salva e chi li paga perché insomma quello è un dramma sociale che riguarda una quantità di gente mostruosa. 400.000 che magari sono capi famiglia e sulle spalle dei quali pesano parecchie altre persone. Era una situazione da incubo. Incubo, incubo. Chiudiamo con gli spettacoli, direttore. Siamo andati a vedere Madonna ieri sera. Dopo Bruce Springsteen a San Siro è arrivata Madonna. Spettacolo veramente tamarro come non si vedeva da anni. Eravamo veramente... Ogni tanto canta. C'è stato un inizio che sembrava a metà tra Ice, White, Shot e una messa nera. Sì. Occasionalmente ha cantato. Sì, ogni tanto canta. Frammenti di canzoni, raramente canzoni intere, però era sempre Madonna. È sempre Madonna. Noi che ci divertiamo con i titoli, l'altro ieri abbiamo fatto Madonna. Che crisi. Perché non fai il soldato. Ecco, è un titolazione perfetta, direttore. Ha detto tutto. Possiamo dire che Filippo e Benedetta sono apparsi alla Madonna come già fece Carmelo bene a suo tempo. Adesso si imporrebbe un... Sono apparsi a Madonna. E Cenziavoli, prima di licenziarla mandandola al Consiglio d'Amministrazione, che cos'è? Eccola qua. Il sindaco grillino di Parma, Pizzarotti, ha presentato due nuovi assessori su YouTube. Ha scritto su Twitter che gliene mancano tre, che sta cercando su eBay. Bene, allora siamo a posto. Grazie. La e-democracy. Dopo la pubblicità, le nostre notizie con Lorenzo di Las Plasas. A lunedì. Lorenzo di Las Plasas. Arrivederci.